L'agropolese Mattia Rundine, classe 2000, studente della Facoltà di Fisica alla Normale di Pisa, continua a conseguire importanti riconoscimenti. Ricordiamo che nel 2018 ottiene il primo posto al premio Cajanello dell'Unisa per poi non fermarsi più. Infatti riceve una medaglia prima d'argento e poi d'oro a Senigallia e nello stesso anno gareggia come unico ragazzo meridionale alla squadra nazionale di fisica Ipo all'Europe di Riga in Lettonia, ottenendo il bronzo. Questo percorso lo conduce alle internazionali a Tel Aviv dove conferma il terzo posto con la medaglia di bronzo, selezionato come studente appartenente alla mitica classe dei fuoriclasse a Torino per poi raggiungere una nuova avventura, la Planks 2022, la Psichis League across numerous countries for kick-ass students, Planks, si è tenuta per la prima volta nei Paesi Bassi da Students Psica in Netherlands, Spin. La prima edizione di Planks si è svolta a maggio 2014 a Utrecht e da allora Planks si tiene ogni anno. Planks è una competizione di fisica basata su esami per studenti di Backeloar e Master, è un evento di tre giorni ricco di numerose escursioni e attività sociali insieme a un simposio di apertura e al concorso stesso. I partecipanti di Planks competono in squadre composte da tre o quattro studenti di laurea o Master. Le squadre sono generalmente composte da studenti dello stesso Paese. Durante la competizione i ragazzi risponderanno a impegnative domande di fisica, progettate sia per sfidare che per intrattenere i concorrenti. Ogni Paese può presentare un numero limitato di squadre. L'edizione 2022 di Planks tornerà in una competizione di persona. Planks 2022 è organizzata dalla sezione giovanile della Società di Fisica Tedesca JDPG e si svolgerà dal 5 all'8 maggio a Monaco di Baviera. I partecipanti saranno nuovamente sfidati con affascinanti problemi di fisica. Oltre alla competizione i partecipanti apprezzeranno relatori accattivanti e esploreranno la straordinaria e culturalmente ricca città di Monaco. La selezione italiana si è tenuta il 4 marzo e la squadra di quattro accademici è arrivata prima alle Pre-Planks, un fuoriclasse di cui Agropoli e tutto il Cilento può vantare e augurare un grosso in bocca al lupo al giovane per questa nuova sfida. Per aspera ad Astra.